Capitolo 1 I Bridgerton sono la famiglia più prolifica dell'alta società. Tale peculiarità è incomiabile, anche se si può ritenere banale la scelta dei nomi fatta a suo tempo dall'ormai defunto Visconte e dalla Viscontessa per i loro figli. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Iacinth. Avere metodo è cosa meritoria, ma si pensa che dei genitori intelligenti riescano a ricordare il nome dei propri figli anche senza metterli in ordine alfabetico. Quando si incontrano nella stessa stanza, la Viscontessa e i suoi otto discendenti si potrebbe temere di vederci doppio o triplo o peggio. Infatti, l'autore di questo articolo non ha mai visto una collezione di fratelli così simili fisicamente. Anche se non ha mai avuto il tempo di prendere nota del colore dei loro occhi, ha constatato che tutti e otto hanno la stessa struttura e gli stessi folti capelli castani. Dato che non ha avuto nemmeno un figlio dai colori più intriganti, bisognerà avere compassione per la Viscontessa quando dovrà maritare con unioni vantaggiose la sua prole. Tuttavia, vi sono dei pregi nell'avere dei figli così simili tra loro, perché così nessuno può dubitare della legittimità della loro nascita. «Ah, gentile lettore, il vostro devoto autore si augura che ciò avvenga in tutte le famiglie numerose». Da «Le cronache mondane di Lady Whistledown, 26 aprile 1813». Violet Bridgerton appallottolò la pagina del giornale e la gettò dalla parte opposta dell'elegante soggiorno. Saggiamente, sua figlia Daphne non fece commenti e finse di essere concentrata sul suo ricamo. «Hai letto quello che ha scritto? L'hai letto?» domandò Violet. Daphne diede un'occhiata alla palla di carta sotto al tavolo. «Non ne ho avuto l'occasione dopo che voi avete finito di leggerlo». «Allora fallo adesso! Leggi le malignità che ha scritto quella donna su di noi!» gemette Violet con un gesto teatrale della mano. Daphne, con calma, mise da parte il ricamo e si chinò a prendere il foglio. Lo stirò sulle ginocchia, lesse e commentò. «Non è così male, mamma. Infatti si può considerarlo un elogio rispetto a quello che ha scritto la settimana scorsa sui Featherington. «Come posso sperare di trovarti un marito se quella donna sbeffeggia il tuo nome?» Daphne si sforzò di mantenere la calma. Dopo quasi due stagioni a Londra la parola marito le faceva venire il mal di testa. Voleva sposarsi, è vero, e non osava sognare un matrimonio d'amore. Ma era troppo sperare di trovare un marito che le ispirasse almeno un po' di affetto? Fino a quel momento solo quattro corteggiatori avevano chiesto la sua mano. Ma quando Daphne aveva pensato di vivere il resto dei suoi giorni in loro compagnia, aveva capito di non poterlo fare. C'erano parecchi uomini che avrebbero potuto essere dei buoni mariti, ma nessuno di loro era interessato a lei. Per la verità, lei piaceva a tutti. Tutti la consideravano divertente, gentile, intelligente, e pensavano che fosse attraente. Ma nessuno era incantato dalla sua bellezza, nessuno rimaneva senza parole in sua presenza, o era ispirato a scrivere poesie in suo onore. Gli uomini, pensava con orrore, erano interessati soltanto alle donne capaci di terrorizzarli. Nessuno pareva disposto a corteggiare una come lei. Tutti la adoravano, o così dicevano, perché parlare con lei era facile, e perché sembrava sempre capire cosa provassero. Se uno di quelli che secondo lei poteva essere un buon marito le avesse detto «Diamine, Daph, tu non sei come le altre donne, tu sei davvero una persona a posto!» Le sarebbe bastato come complimento, soprattutto se lui non se ne fosse poi andato subito in cerca dell'ultima bellezza bionda appena comparsa all'orizzonte. Daphne abbassò gli occhi e si accorse di avere le mani strette a pugno. «Sono sicura che l'articoletto di Lady Whistledown non metterà a rischio le mie possibilità di accasarmi.» «Daphne, sono passati due anni!» «Lady Whistledown scrive solo da tre mesi, perciò non vedo come possiamo accusarla di qualcosa.» «Io accuso chi voglio!» borbottò Violet. Daphne strinse di nuovo i pugni per impedirsi di ribattere. Sapeva che sua madre aveva a cuore i suoi interessi e sapeva anche che le voleva bene e naturalmente Daphne voleva bene a sua madre. Infatti Violet, fino a che lei non aveva raggiunto l'età da marito, era stata in assoluto la migliore delle madri e lo era ancora, tranne quando si disperava perché, oltre a dover pensare a Daphne, aveva altre tre figlie da sistemare. Violet si posò delicatamente una mano sul petto. «Getta fango sulla vostra nascita!» «No!» rispose pacata Daphne. Era sempre saggio procedere con cautela quando doveva contraddirla. «In realtà ciò che ha detto è che non vi sono dubbi sulla nostra legittimità è più di quanto si possa dire dei figli di molte famiglie aristocratiche». «Non avrebbe dovuto neanche menzionarle certe cose!» replicò Violet sospirando. «Mamma, è l'autrice di una rubrica di pettegolezzi, è il suo mestiere scrivere di queste cose e non è nemmeno una persona reale!» riprese Violet con rabbia. «Whistledown, non ho mai sentito quel nome! Chiunque sia, dubito che faccia parte dell'aristocrazia. Una persona di rango non scriverebbe mai queste sciocchezze!» «Certo che è una nobile donna!» replicò Daphne con un'espressione divertita negli occhi scuri. «Se non facesse parte del bel mondo non sarebbe al corrente delle cose di cui scrive. Pensate che sia una specie di spia che sbircia dalle finestre e origlia dietro le porte?» «Il tuo tono non mi piace, Daphne!» commentò la madre accigliata. La ragazza trattenne un sorriso. Violet diceva sempre «Il tuo tono non mi piace» quando uno dei suoi figli aveva la meglio in una discussione, ma lei si divertiva troppo a canzonarla. «Non sarei sorpresa, mamma, se Lady Whistledown fosse una delle vostre amiche!» «Attenta a come parli, Daphne, nessuna delle mie amiche scenderebbe tanto in basso!» «Bene, allora probabilmente non è una delle vostre amiche, ma sono sicura che è una persona che conosciamo. Un estraneo non riuscirebbe a ottenere le informazioni di cui scrive nei suoi articoli». Violet incrociò le braccia. «Vorrei farle chiudere il giornale per sempre». «Se volete toglierla di mezzo, non dovreste sostenerla acquistandolo», replicò Daphne. «E a cosa servirebbe?» domandò Violet. «Lo leggono tutti. Il mio boicottaggio non servirebbe ad altro che a farmi essere l'unica che non sa niente, mentre gli altri sghignazzano dei suoi ultimi pettegolezzi». «Era vero», riconobbe Daphne fra sé. La Londra mondana era totalmente soggiogata dal giornale di Lady Whistledown. Tre mesi prima il misterioso foglio era arrivato sulla soglia di tutti i membri dell'alta società. per due settimane gratuitamente e senza essere richiesto. Era stato recapitato il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il terzo lunedì i maggiordomi di tutta Londra avevano atteso in vano il ragazzo del giornale per poi scoprire che, oltre a esserne stata interrotta la distribuzione gratuita, era stato messo in vendita al prezzo oltraggioso di cinque penni che tutti pagarono. Daphne non poteva che ammirare la scaltrezza di questa misteriosa Lady Whistledown. Nel momento in cui aveva cominciato a far pagare la gente per i suoi pettegolezzi, l'alta società ne era già dipendente. Tutti sborsavano i cinque penni e da qualche parte una donna molto astuta si arricchiva. Mentre Violet camminava avanti e indietro per la stanza lamentandosi dell'oltraggio subito dalla sua famiglia. Daphne alzò lo sguardo per sincerarsi che la madre non stesse badando a lei e a quel punto sbirciò il giornale per leggere con attenzione il resto. Il Whistledown come veniva chiamato era un insieme di notizie mondane commenti battute sarcastiche e occasionali complimenti. Si differenziava dagli altri fogli di pettegolezzi pubblicando per intero i nomi delle persone prese di mira. Non venivano nascosti dietro abbreviazioni tipo Lord S o Lady G. Quando Lady Whistledown voleva scrivere di qualcuno usava il nome completo. Anche se si mostravano scandalizzati i lettori e le lettrici ne erano segretamente affascinati. L'ultima pubblicazione era tipicamente nello stile del Whistledown a parte il breve pezzo sui Bridgerton che alla fine non era altro che la descrizione della famiglia venivano raccontati gli eventi del ballo della sera prima. Daphne non vi aveva partecipato poiché era il compleanno della sorella minore e la famiglia dava molta importanza a queste ricorrenze. Con otto figli i compleanni da celebrare erano molti. Stai leggendo quella spazzatura? L'accusò Violet. Daphne alzò gli occhi senza sentirsi in colpa l'articolo di oggi è piuttosto interessante pare che ieri sera Cecil Tumbly abbia buttato giù una torre di bicchieri di champagne sbattendoci contro. Davvero? chiese Violet cercando di non mostrarsi interessata. Sì rispose Daphne Lady Whistledown fornisce un resoconto piuttosto accurato del ballo dei Middlethorpe chi ha parlato con chi chi indossava cosa e immagino abbia sentito la necessità di farci sapere la sua opinione sull'argomento. La interruppe Violet Daphne accennò un sorriso Oh su via mamma sapete bene che Mr. Fedorinton ha sempre portato malissimo il porpora Violet cercò di non sorridere Daphne riuscì a vedere gli angoli della sua bocca tirarsi nel tentativo di mantenere il contegno adatto secondo i suoi canoni a una viscontessa e a una madre ma nel giro di un attimo si sedette sul divano accanto alla figlia con un largo sorriso in volto fammi vedere disse sfilandole il foglio di mano cos'altro è successo ci siamo perse qualcosa di importante credetemi mamma con le cronache di Lady Whistledown è inutile partecipare agli eventi mondani è come essere presenti probabilmente anche di più e sono sicura che abbiamo mangiato meglio noi a casa nostra che non gli invitati al ballo sentite questa Violet si sporse un po' verso Daphne che lesse quella simpatica canaglia conosciuta come conte di Clivedown ha finalmente onorato Londra della sua presenza malgrado non si sia degnato di presentarsi ad alcuna riunione mondana rispettabile è stato visto diverse volte da Whites e una volta da Tattersall Daphne fece una pausa per riprendere fiato il conte ha vissuto all'estero per sei anni è forse una coincidenza che sia tornato proprio adesso dopo la morte del vecchio duca Daphne distolse lo sguardo dal giornale santo cielo si può proprio dire che questa donna è una sfrontata Clivedown non è un amico di Anthony adesso è il duca di Hastings la corresse Violet sì credo che lui e Anthony e Oxford fossero amici anche a Eton mi pare concluse con espressione pensierosa se non ricordo male era una specie di diavolo sempre in lite con suo padre molto intelligente sono sicura di aver sentito che si era laureato con ottimi voti e che eccelleva soprattutto in matematica non posso dire la stessa cosa dei miei figli concluse alzando gli occhi al cielo sono sicura che anch'io potrei laurearmi con il massimo dei voti se soltanto le donne fossero ammesse a Oxford scherzò Daphne Violet replicò ti ricordo che ho corretto i tuoi compiti di matematica quando la tua istitutrice era ammalata beh allora in storia rise Daphne e tornando al giornale che aveva in mano mormorò sembra un tipo interessante Violet la guardò severamente non è assolutamente adatto a una signorina della tua età è buffo come io venga considerata troppo giovane per incontrare gli amici di Anthony e troppo vecchia quando non sperate più di trovarmi un buon marito rise la figlia Daphne Bridgerton è il tuo tono non mi piace lo so la interruppe allegramente Daphne poi aggiunse però so che mi volete bene Violet passò un braccio attorno alle spalle della ragazza Dio solo sa quanto Daphne le sfiorò la guancia con un piccolo bacio è la maledizione delle madri siete costrette ad amarci anche quando vi contrariamo Violet sospirò spero che un giorno o l'altro avrai dei figli come me lo so terminò Daphne e appoggiò la testa sulla spalla della madre Violet poteva essere curiosa fino all'eccesso mentre il padre si era sempre preoccupato di segugi e battute di caccia più che di faccende mondane eppure il loro matrimonio era stato felice pieno di amore risate e figli potrebbe andarmi incredibilmente peggio rispetto a voi mamma mormorò ma no Daphne perché ribatteva Violet e con gli occhi lucidi dalla commozione che cosa carina da dire Daphne si arricciò una ciocca di capelli intorno al dito e con un sorrisetto sulle labbra continuò sarei felice di seguire le vostre orme quanto a matrimonio e figli purché non debba averne otto in quel preciso istante Simon Bassett nuovo duca di Hastings e oggetto della conversazione delle signore Bridgerton era seduto da Whites in compagnia di Anthony Bridgerton il fratello maggiore di Daphne i due erano una coppia formidabile entrambi alti e atletici con folti capelli scuri ma mentre gli occhi di Anthony avevano lo stesso color cioccolata di sua sorella Daphne quelli di Simon erano azzurro ghiaccio e il suo sguardo era penetrante in un modo del tutto particolare erano stati soprattutto quegli occhi che gli erano valsi la reputazione di uomo da non sottovalutare quando fissava qualcuno se era un uomo si sentiva a disagio se era una donna veniva percorsa da un brivido però non turbavano Anthony i due giovani erano amici da anni e Anthony rideva quando Simon alzava un sopracciglio e lo guardava con il suo sguardo di ghiaccio dimentichi che ti ho visto con la testa china su un vaso da notte ed è difficile che possa prenderti sul serio gli aveva detto una volta Simon aveva ricordato l'incidente e avevano riso insieme Anthony era un buon amico la persona che avrebbe desiderato avere vicino in un momento di crisi era stato il primo che aveva cercato dopo essere tornato in Inghilterra è dannatamente bello averti qui di nuovo Clivedon disse Anthony dopo che si furono seduti al tavolo suppongo suppongo che vorrei essere chiamato Hastings adesso no Hastings sarà sempre mio padre assumerò il suo titolo se devo farlo ma non voglio essere chiamato con il suo nome se devi farlo Anthony spalancò gli occhi la maggior parte degli uomini non proverebbe certo rassegnazione alla prospettiva di ereditare un ducato Simon si passò una mano tra i capelli sapeva che avrebbe dovuto compiacersi del titolo e mostrarsi orgoglioso della storia della famiglia Bassett ma in verità lo faceva stare solo male si era sempre comportato in modo contrario alle aspettative del padre e adesso gli sembrava ridicolo farsi chiamare con il suo nome è un dannato peso ecco cos'è borbottò dovrai abituarti perché è così che ti chiameranno tutti Simon sapeva che era vero ma dubitava che il titolo sarebbe stato bene sulle sue spalle beh comunque sono contento che tu sia tornato finalmente potrò riposarmi quando accompagnerò mia sorella al prossimo ballo Simon si appoggiò allo schienale allungò le gambe muscolose e incrociò le caviglie osservazione curiosa Anthony alzò un sopracciglio vuoi che ti spieghi naturalmente dovrei lasciare che te ne accorga da solo ma non sono così cattivo allora parla esattamente che cosa dovrei fare per renderti la vita più tranquilla chiese scandendo lentamente le sillabe immagino che tu intenda prendere il tuo posto in società immagini male però parteciperai al ballo di Lady Danbury solo perché le sono molto affezionato dice sempre quello che pensa e abbassò lo sguardo e lo solleticò l'amico Simon scosse appena la testa niente ricordo che quando ero piccolo era molto gentile con me ho passato diverse vacanze a casa sua con Riverdale suo nipote Anthony Annui capisco così non ha intenzione di fare vita di società la cosa mi colpisce ma ti avverto che anche se intendi nasconderti da loro saranno loro a trovarti Simon che aveva scelto quel momento per bere un sorso di brandy quasi si strozzò osservando la faccia di Anthony mentre diceva loro dopo aver tossito per un po' riuscì a dire e chi sarebbero di grazie a questi loro Anthony rabbrividì le madri non avendone avuta una non posso dire di avere capito cosa intendi le madri dell'alta società quei draghi dalla lingua di fuoco che hanno figlie in età da marito che Dio ci liberi puoi correre dove vuoi ma non riuscirai mai a nasconderti e lascia che ti dica che la mia è la peggiore di tutte santo cielo e io che credevo che l'africa fosse pericolosa guardandolo con commiserazione Anthony continuò ti daranno la caccia e quando ti avranno preso ti troverai intrappolato in una conversazione con una giovane pallida vestita di bianco che parlerà solo del tempo degli inviti da Olmex e di nastri per i capelli un'espressione divertita passò sul viso di Simon vuoi dire che mentre io ero all'estero sei diventato un buon partito non perché abbia aspirato a tale ruolo ti assicuro se dipendesse da me eviterei tutti i ricevimenti come la peste ma mia sorella ha fatto il suo debutto in società l'anno scorso e io sono obbligato ad accompagnarla almeno di tanto in tanto parli di Daphne? Anthony lo guardò sorpreso la conosci? no ma ricordo le lettere che ti scriveva a scuola e ricordo anche che essendo la quarta dei fratelli il suo nome doveva cominciare per D e Anthony alzò gli occhi al cielo ah sì il metodo Bridgerton di battezzare i figli una garanzia per essere sicuri che tutti si ricordino chi siamo l'altro rise ha funzionato no? senti ho promesso a mia madre che avrei cenato da lei verso fine settimana perché non vieni anche tu? Simon alzò un sopracciglio non mi hai appena messo in guardia dalle madri con figli e debuttanti? mi farò promettere da mia madre di comportarsi bene e non temere per Daph è l'eccezione che conferma la regola ti piacerà immensamente Simon corrugò la fronte l'amico stava forse recitando il ruolo del paraninfo come se gli avesse letto nel pensiero Anthony esclamò ridendo oddio non crederai che stia cercando di gettarti tra le braccia di Daphne vero? l'altro non rispose non andreste d'accordo sei troppo musone per i suoi gusti Simon trovò strano il commento ma domandò ha avuto delle proposte? qualcuna Anthony finì il suo brandy e respirò a fondo soddisfatto le ho permesso di rifiutarle tutte molto indulgente da parte tua Anthony fece un'alzata di spalle al giorno d'oggi sperare in un matrimonio d'amore è forse troppo ma non capisco perché Daph non dovrebbe almeno essere contenta di suo marito abbiamo avuto proposte da un uomo abbastanza vecchio da essere suo padre un altro abbastanza vecchio da essere il fratello minore di suo padre un altro ancora troppo altezzoso per il nostro clan spesso assai esuberante e per finire questa settimana mio dio l'ultimo che si è rivelato il peggiore di tutti che cosa è successo? Anthony si massaggiò le tempie un gentiluomo garbato ma parecchio duro di comprendonio penserai visto il nostro passato dissoluto che io sia completamente privo di sentimenti figurati al contrario non capisco come possa venirti in mente lo interruppe l'amico con un sorrisetto diabolico Anthony lo guardò male non mi sono certo divertito a spezzare il cuore di quel poveretto non doveva essere Daphne a farlo? sì ma a lui ho dovuto dirlo io non molti fratelli permetterebbero alla sorella di comportarsi così di fronte a una proposta di matrimonio è sempre stata una buona sorella era il minimo che potessi fare per lei anche se questo significa che devi continuare a scortarla da Olmex lo provocò Simon anche così per consolarti potrei dire che tutto questo prima o poi finirà ma non hai forse altre tre sorelle da casare Anthony sobalzò Eloise debutterà tra due anni e Francesca l'anno dopo ma avrò un po' di respiro prima che Aya si intabbia l'età giusta Simon ridacchiò non ti invidio commentò ma provò uno strano senso di vuoto e si domandò come ci si sentisse a non essere soli al mondo come lo era lui non aveva in programma di avere una famiglia ma forse se ne avesse avuta una la sua vita sarebbe stata diversa allora vieni a cena domandò Anthony alzandosi non sarà nulla di formale non lo è mai quando siamo solo noi di famiglia Simon aveva decine di cose da fare nei giorni successivi ma prima di potersi fermare sentì la propria voce che diceva con molto piacere magnifico e ti vedrò alla festa di casa Denbury prima Simon rabbrividì no se posso evitarlo il mio obiettivo è di cavarmela in meno di mezz'ora fra andata e ritorno davvero pensi chiese l'amico dubbioso alzando un sopracciglio di riuscire ad andare al ballo portare i tuoi omaggi a Lady Denbury e filartela così Simon annui in modo fermo deciso ma la fragorosa risata di Anthony non fu granché rassicurante grazie a tutti